Sì, allora siamo a San Menaio, alle mie spalle il lungomare Andrea Pazienza, l'estate a dispetto di quanti pensavano potesse andare male sta andando piuttosto bene, le attività in linea di massima sono tutte sold out, chi ha lavorato bene e ha fatto campagna di informazione è riuscito a infondere coraggio e sicurezza nei propri ospiti, non abbiamo avuto disdette come operatori turistici, specie nel nostro caso e riteniamo di dover continuare su questa strada offrendo servizi sempre di maggior livello. Quali sono i punti di forza di San Menaio? Sicuramente da sempre i punti di forza di San Menaio sono rappresentati dalla tranquillità della piazza dove notoriamente si viene per stare sereni con target principale, famiglie con bambini o persone diciamo più avanti con l'età, tuttavia anche per i giovani è un posto dove stare in tranquillità e infatti è difficile incontrare flotte di ragazzini, di ragazzine che imperversano sul lungomare e per le spiagge. E poi siamo nel cuore del Gargano? Beh sicuramente il cuore del Gargano è giusto perché tra le pinete, tra la foresta umbra e il mare a pochissimi passi è un'esperienza naturalistica di un certo spessore.